Musica Noi siamo alla lista 2, le furie della conoscenza Promoviamo insieme l'equità a scuola e online Trasmettiamo ai nostri opinioni su come migliorare la scuola e coinvolgiamo tutti i ragazzi Difondendo le nostre idee attraverso i video e i cartelloni Con le furie della conoscenza, tutti riusciranno a conoscenza Buon appetito!